ragazzi se volete sostenere il canale gratis basta un'iscrizione è un click e l'attivazione della campanellina quindi questo canale se lo volete sostenere si sostiene gratis iscrizione al canale se vi fa piacere non siete obbligati e attivazione della campanellina volevo ricordare anche a tutti i disagiati che insultano a tutti i vigliacchi disagiati che insultano dietro ad uno schermo ad una tastiera che eh di eh di stare attenti perché poi dopo eh ci si rimane male quindi occhio attenzione a questi leucini da tastiera perché eh la loro libertà va di pari passo con l'assunzione di responsabilità Ibral Milan attenzione Ibral Milan voglio leggere i giornali con quelli famosi no? Lo leggo i giornali vi rompo le scatole Ibral Milan è un segnale di paura perché loro per un discorso economico soprattutto come noi eh ci mancherebbe qualora non arrivassero quarti per loro sarebbe una tragedia incominciano ad avere il fuoco al sedere come si suol dire e prendono Ibra che fa da mental coach prendono Ibra che può fare da tattico eh molti tifosi milanisti molti youtubers perché io seguo anche qualche canale di qualche youtuber milanista ogni tanto mi capita di vedere qualche video eh etichettano praticamente il ritorno di Ibra come ad un avvicinamento a delle figure eh rossonere molti tifosi del Milan si scordano che Ibra va dai rossoneri perché chiede di ritornare all'Inter e l'Inter di fa Maramau addirittura Ibra chiese la cessione di cambiasso la prima volta la seconda volta perché ha provato due volte a tornare all'Inter il signor Ibraimovic la seconda volta addirittura voleva l'anno di Lukaku voleva il posto da titolare a discapito di Lukaku anche se magari forse per certe cose è meglio Ibra era meglio Ibra a trentasei anni che Lukaku a trenta però quindi eh non è eh molti youtuber anche milanisti lo associano come un ritorno di figure storiche del Milan Ibra non è una vostra figura storia Ibra viene al Milan e sono dati di fatto forse voi non lo volete accettare perché venne rifiutato dall'Inter quindi Ibraimovic per come la vedo io punterà a fare le scarpe a Pioli motivo per cui fu allontanato dallo stesso Pioli Ibraimovic perché è una figura troppo ingombrante attenzione perché qualora la situazione colasse a picco per come la vedo io Ibra tenta eh punta a fare l'allenatore con Abate secondo perché Ibra non ha il patentino questa è una mia idea questa è una mia idea per quello che poi riguarda la Real Societad ragazzi è fondamentale vincere per evitare agli ottavi Arsenal Bayer City eh Real Madrid per evitare grane problemi a noi fa comodo arrivare primi perché sono quasi tre milioni di euro per noi tre milioni di euro con il cinese eh è è è un bingo lo capisci perché con tre milioni se si presta qualche d'uno si noleggia un altro e si regala uno forse si riesce a prendere qualche d'uno a gennaio zang permettendo ma si evitano molte ma molte grane si evitano queste squadre che tu ho appena citato quella sarà una partita eh dai ritmi forzennati contro gli spagnoli davanti hanno dei giocatori piccoli rapidi e ci mettono in difficoltà per come è strutturata la nostra difesa anche se siamo molto più granitici rispetto all'anno scorso quindi l'Inter secondo me deve fare una partita tatticamente perfetta e cercare di risparmiare più benzina possibile perché ragazzi siamo contati siamo quelli non esiste ve ne siete accorti anche voi non esiste questa super rosa che volevano far sembrare ad inizio stagioni la rosa è corta quindi di evitare più dispersione di forze possibili e come la eviti la eviti essendo perfetto tatticamente ciao Inter grazie a tutti i nostri spagnoli grazie a tutti i nostri spagnoli